Una candidatura che nasce dal lavoro fatto in questi anni, prima sugli anniversari nazionali e internazionali legati all'anniversario di Rossini, poi al riconoscimento UNESCO del 2017, la volontà di correre a Simurbino per la capitale europea della cultura del 2033, crediamo che questo 2024 possa essere una buona palestra, non solo per sperare di vincere e di aggiudicarsi questo importante riconoscimento, ma perché crediamo che competere a queste iniziative, proprio come ha fatto Ancona, sia un modo per mettersi in gioco, per soprattutto sviluppare un rapporto con tutti gli attori culturali ed economici del territorio. È così che la spenderemo, non sarà una candidatura solo di Pesaro, coinvolgeremo tutti i comuni della provincia e su questo ovviamente anche un ragionamento con gli altri comuni della regione per farne una candidatura che sia il più collettiva possibile e soprattutto coinvolgeremo gli artisti, coinvolgeremo le realtà creative, non solo la musica naturalmente, ma anche l'artesanato, il video, il cinema, il design, la letteratura e la gastronomia. Un lavoro come questo di candidatura che appunto porta a mettersi in gioco e tessere relazioni e promuoversi un po' a tutti i livelli, sia anche un ritorno di promozione turistica per Pesaro e per il nostro territorio regionale e quindi anche di questo obiettivo mettiamo in posizione il nostro lavoro.